Ci troviamo al Teatro Rasi dove stasera il progetto Non Scuola inaugurerà la sua stagione febbraio-maggio 2010 con lo spettacolo Cesar, ma ce ne stanno 33. Che cosa tratta il progetto La Non Scuola? Il progetto La Non Scuola è un progetto che è nato nel 92, è partito proprio da Liti e collaborando con il Teatro delle Albe, qui del Teatro Rasi, con Marco Martinelli, abbiamo pensato di fare un lavoro teatrale con i ragazzi e la cosa ha preso piede, si è allargata poi tutte le scuole di Ravenna e da allora, tutti gli anni, ogni scuola fa il suo spettacolo e debutta ogni anno qui a Teatro Rasi con un lavoro. Qual è la trama dello spettacolo? La trama dello spettacolo narra, al seguito dell'ascesa Imperatore di Cesare, il complotto fatto da alcuni senatori romani che temono che Cesare acquisti troppo potere e fondamentalmente si dimentichi del bene di Roma. Nello spettacolo si sottolinea un po' la volubilità del popolino che a seconda della bandiera che gli si sventola davanti viene eccitato a seguire sempre l'ultimo trend governativo. Dal Teatro Rasi è tutto, Alessandra Fantini per Ravenna Web TV.